Questa è la storia di un'avventura straordinaria, cominciata 30 anni fa attorno ad un buio tavolo d'osteria. Una storia scritta da uomini nati qui, nati nelle Dolomiti, con la bici nella testa e le loro amate montagne nel cuore. Poca esperienza di organizzazione, tante paure, timori ma tanta voglia di provarci. Siamo nel 1987, quei ragazzi senza saperlo stavano uscendo dal loro piccolo mondo, pieni di speranze con la follia della loro giovinezza ed in sella la loro amata bicicletta lo stavano aprendo magicamente al mondo intero. La maratona è cominciata ma solo dentro di loro, in solitudine, nel silenzio delle loro montagne. Poi, piano piano, anno dopo anno, come per miracolo tutto cambia, il grande tam tam è cominciato. Arrivano ciclisti da ogni parte del mondo, poi di più, di più e di più ancora. L'evento cresce e cresce ancora. Il sogno di quei ragazzi nel buio della loro osteria, oggi è un sogno ambito da più di 30.000 ciclisti. Una realtà che regala sorrisi ai più bisognosi, un'organizzazione di oltre 1.500 volontari che lavorano con entusiasmo per regalarvi ogni anno una giornata indimenticabile, immersi nel maestoso scenario delle Dolomiti con la vostra amata bicicletta.